Siamo tanti, siamo tantissimi. Siamo tanti, siamo tantissimi. Siamo tanti, siamo tantissimi. Sì, dalle 21 invece continueremo con la nostra trasmissione normale, con gli altri ospiti. Questa sera parleremo di quello che sta succedendo in Italia, soprattutto a Roma, dopo la decisione della Corte Costituzionale. Cercheremo di capire se stiamo andando verso una terza repubblica o se torniamo alla prima. Ma adesso andiamo a fare la conoscenza di Lucio Malan. Tu dove sei nato, quando sei nato? A Luserna San Giovanni, in Val Pellice, provincia di Torino, nel lontano 30 luglio 1960. Mamma mia, sembri molto più giovane. Sposato, figli? Sono sposato, due figli da un precedente matrimonio, Alexandra ha 23 anni, David 21. Io ho una figlia di 5 mesi, ho compiuto 5 mesi ieri da Maria, che era mia attuale moglie. Siamo sposati nel 2005 e abbiamo avuto la gioia di questa bambina. E come fare il papà, diciamo, non più giovanissimo? È bellissimo, è bellissimo e... Non è una domanda interessata perché io ho una figlia di 2 mesi, capito? Ah, vedi, allora lo sai anche tu. È bellissimo perché si è più consapevoli. È stato bellissimo i miei primi due figli, ma qui c'è forse ancora un pochino più di consapevolezza. È quasi, sia maggiormente la sensazione del miracolo perché tutti i bambini sono un miracolo. Ma alla mia età si è ancora più coscienti di voi. Senti, invece hai iniziato, giovane, ad avvicinarti alla politica. Qual è stato il tuo percorso? Io ho sempre seguito moltissimo la politica, fin dalle medie i miei genitori erano preoccupati perché io leggevo le pagine, i pastoni di politica che all'epoca si mettevano in seconda pagina sui quotidiani, congressi di partita. Sono un po' preoccupati, di solito a quell'età si legge altro. E ho seguito, facevo iniziative così, ho fatto una raccolta di firme in seconda media, era una questione di caccia, era una questione ambientalista. E poi ho fatto, naturalmente ho votato come tutti, sono entrato nella Lega Nord nel 90 perché vedevo un movimento. Proprio all'atto di fondazione praticamente. Eh sì sì, perché ho visto un movimento che voleva cambiare le cose, sicuramente c'era molto da cambiare rispetto alla Prima Repubblica, adesso forse va persino un po' rivalutato questo periodo perché c'era un senso delle istituzioni che oggi è purtroppo scomparso, perché è giusto il confronto politico, ma le istituzioni sono un patrimonio di tutti. Nella Lega, per le cose che possono succedere in un movimento molto giovane come la Lega, fui designato dai militanti, dagli iscritti del Pinerolese a essere candidato alla Camera nel 1994 nella coalizione con Forza Italia. Fui eletto, fu una vittoria ampia, ampia. Era stato un anno magico nel 1994 e mi trovai estremamente a disagio con le continui attacchi di Bossi a Berlusconi. Io ero dal partito della Lega coerentemente, però ritenevo che gli elettori ci avessero votato per governare insieme, per cui quando Bossi manifestò in modo definitivo l'intenzione di far cadere il primo governo a Berlusconi, io ho deciso di uscire dalla Lega, insieme a alcuni altri, soprattutto piemontesi, per tentare di indurre Bossi, per l'appunto a non fare questa bossa. Anni dopo ho capito perché Bossi l'aveva fatto, perché Scalfaro, il presidente Scalfaro, gli aveva detto che Berlusconi sarà oggetto di un'offensiva giudiziaria peggiore di quella fatta contro Andreotti e Craxi. Andreotti e Craxi sono stati spazzati via, figurati lui che è inesperto, pensavano che fosse una mammoletta. Io queste cose non potevano saperle, Bossi non poteva dirlo, e in seguito ho capito, Bossi ha detto, ma perché mi dispiace che affondi Berlusconi, ma se affonda lui non devo morire. Non voglio affondare, poi dopo cambiate idea. Nel frattempo noi siamo usciti, e beh certo perché è cambiata la situazione, parecchi siamo usciti, io sono uscito e abbiamo tentato di dar vita a un gruppo alternativo, federalista alternativo, ma non c'erano gli spazi. La Lega è Bossi, almeno era Bossi, oggi è cambiato un po' le cose, e nel 1996 sono entrato a tutti gli effetti in Forza Italia, fui ricandidato, non fui rieletto, dal 1998 ho collaborato con Berlusconi come responsabile dell'ufficio propaganda, e poi sono stato eletto in Senato dal 2001 facendo una serie, svolgendo una serie di incarichi. Ma senti, tu che sei stato all'ufficio propaganda, no? Cioè, con Berlusconi che è comunque universalmente riconosciuto come un grandissimo comunicatore, no? In realtà, il responsabile dell'ufficio propaganda era lui, io facevo l'aiutante. Ma è vero che lui guarda tutto, anche l'avvio. Lui guarda i dettagli fino all'ultimo momento e anche un pochino dopo. Succedeva a volte che i manifesti, che vanno fuori per quindicine, i famosi 6x3, che Forza Italia è stato il primo ad usarli in modo massiccio, i manifesti già, c'erano gli attacchini che andavano ad affiggerli, e lui mi telefonava e dice, sai, ho visto che dovremmo forse cambiare qualcosa, possiamo ancora cambiare? Cioè, sì, possiamo, presidente, ma non in questa quindicina, perché ormai sono lì. Però la prossima quindicina lo facciamo senza altro. Un perfezionista vede i dettagli di tutto, accetta molto anche però i suggerimenti, i suggerimenti, le proposte di altri e li accetta a tal punto che veramente lui non sia più bene chiaro se quella certa idea l'ha avuto io, l'ha avuto a Tizio, ce l'ha avuta lui, perché tanto lui la fa sua ed è importante, e ovviamente le decisioni le ha prese lui in questo campo e anche in molti altri, però assorbe molto quello che gli sta intorno. Adesso su Berlusconi ci torniamo dopo, invece volevo chiederti, questa vita passata vicino alla politica, ad alti livelli, ma anche sul territorio, alla fine questa politica per te è più una passione o una droga? Perché ho visto tanti parlamentari, non essere più parlamentari, patire proprio il distacco da questa cosa. Sì, effettivamente è una verifica giusta, hai ragione a vedere cosa succede quando non lo sei. Ma tu sei stato per un certo periodo? Io ho fatto una carriera molto rapida, da 35 anni ero già un ex parlamentare, perché nel 96 sono stato ricandidato nello stesso collegio dove ho vinto nel 94, ho cambiato la situazione politica, ho perso, e per cui mi sono trovato a essere ex parlamentare. Da un punto di vista personale nessun problema, Io ho una buona considerazione di me stesso con la dovuta modestia, ce l'avevo già prima, da deputato mi sono sentito chiamato un grande onore, non essendolo più stato, poi naturalmente si tratta di riadattarsi, dal punto di vista anche dell'organizzazione della vita, poi lì sono successe varie vicende familiari che hanno complicato questo seguito, ma è stato più quello che la perdita del seggio. Io devo dire, come dire, per un verso mi ci sono sempre sentito portato, ho detto che leggevo fin da ragazzino le cose di politica, ultimamente la trovo molto più pesante, perché c'è un clima molto peggiorato, c'è un clima dove è più l'urlo, è più la diceria che non la notizia o la cosa vera, c'è un rispetto delle regole che sta declinando, e francamente lo sento di più come missione. Mi succede abbastanza spesso di pensare ai numerosi lavori che ho fatto, perché sono giovane, ho iniziato giovane alla politica, ma a differenza di un noto sindaco di una città dell'Italia centrale, che fa tanto il nuovo, ma non ha fatto un minuto di lavoro di fuori dalla politica, parlo di Matteo Renzi, io ho iniziato la politica da giovane, ma ho fatto molti lavori, fin da giovanissimo, e so benissimo qual è la realtà di fuori dalla politica. E tante volte mi succede di dire, però che bello quando facevo l'insegnante, per esempio, o quando lavoravo in banca. Con l'immagine purtroppo dequalificante che ha la politica, il politico oggi, non ti sei mai pentito? Se tu avessi fatto un insegnante, magari avessi scritto dei libri, avessi avuto… Io quando ero insegnante mi piaceva un vecchio film inglese che si chiamava qualcosa tipo Tanti auguri, Addio Mr. Chips, che era di un insegnante che aveva iniziato giovanissimo la sua professione e aveva insegnato fino a 80 anni. Io mi andava bene quella carriera lì, poi la vita è varia e ti sorprende sempre, anche perché è scritta da uno che ci sorprende, però mi andava bene quello. E devo dire, mi sono detto, se sono stato mandato a far questo è perché c'è una ragione e non me ne pento, però devo dire che spesso è molto pesante perché se uno fa degli sbagli è giusto che sia accusato e la politica è questa, le critiche anche pesanti, ma essere criticato per cose che non sono vere o che non hai fatto in modi del tutto strumentali, questo è brutto ed è un male per tutti. Poi uno finisce che ci si abitua, però io non ci credo tanto a quelli che dicono ah no, ma io mi diverto quando mi insulto. No, non è così. Bisogna, come dire, inspessirsi un po' la pelle, però non troppo perché altrimenti si diventa insensibile e chi non è sensibile non è una vera persona. Ecco, senti, la politica vista oggi purtroppo come al 100% marcia in realtà non lo è, però ci sono successe alcune cose in Italia che chi non segue la politica tutti i giorni è stato investito per esempio dallo scandalo dei rimborsi delle regioni, che come dicevamo la scorsa settimana avevo i consigli regionali, si diceva sono poi 22 centesimi a testa per ogni piemontese, ce ne portano via ben di più con le tasse, però dà molto fastidio. Perché c'è stata questa degenerazione? Ma prima di tutto non bisogna fare di ogni erba un fascio, cosa che è molto facile, perché purtroppo qui a quanto pare qualcuno ha veramente fatto delle cose fortemente irregolari, ma qualcuno è finito nel mucchio e si è ricevuto magari un avviso di garanzia, magari pure un rinvio a giudizio e poi si scopre che invece le cose erano in regola o quasi, per lo meno. E forse, come dire, ci si è dimenticati che di tutto quello che si fa bisogna rendere conto e allora diciamo ma sì, ma lo faccio un giorno, poi lo faccio due, poi lo fanno gli altri, ed è, questo può succedere da qualunque parte, la faccenda è che se sei un politico, c'è la tua faccia tutti i giorni sul giornale, mentre invece se fai un altro mestiere che so quello che timbra al posto dell'altra cosa di questo genere, si dice una volta però non è che c'è la tua faccia per un mese sul giornale, e lì è come dire, e poi sono persone che dovrebbero dare l'esempio eccetera eccetera, però non bisogna dimenticare che non è che i politici vengono giù dal cielo e neanche su dall'inferno insomma, cioè sono persone come tutte le altre, tant'è vero che fanno, hanno fatto, a volte faranno altri mestieri e che come tutti sono soggetti a determinate tentazioni, il politico ha la possibilità di prendere delle decisioni che in molti altri ruoli non hai, e allora può avere questa tentazione, in altri lavori c'è di meno, ma anche in altri, guarda, io quando sono stato relatore della legge anticorruzione ho saputo una cosa, c'era una statistica fornitaci dagli uffici giudiziari, dal Ministero della Giustizia, dal quale risultava che per corruzione, concussione reati connessi, solo l'1% erano politici, gli altri erano altre branche dello Stato, ovviamente perché corruzione per sua natura non può essere un privato, e allora da agenti di polizia, funzionari e così via, per cui non è che, magari, io dico sempre, magari fossero corrotti solo, ci fossero solo dei politici corrotti, beh, li metti tutti e via, sostituisci con gli altri che sono tutti onesti, non è così. Ecco però, senatore, nel 93 ci fu un attacco mediatico, Tangentopoli, la distruzione dei cinque partiti, eccetera, un pochettino questo attacco alla politica c'è anche in questo momento, forse anche peggio, anche peggio, viene distrutta proprio la parte etica del politico, eccetera, anche in questo caso ci può essere un piano dietro, oppure è proprio il momento che stanno uscendo tutte queste cose? C'è, secondo me c'è, c'era nel 92-93 e c'è oggi, naturalmente non è che allora quelli che metti nel 92-93 oggi hanno rubato, non è vero che hanno rubato, le cose sbagliate sono state fatte all'epoca, sono state fatte oggi, ma la ragione per cui molti sono stati perseguiti, la ragione per cui certi giornali martellano mettendo verte, cose vere e cose false, senza problemi non pubblicano smentite e così via, evidentemente c'è un disegno che all'epoca era quello di far fuori tutti i partiti che davano fastidio alla sinistra e il disegno era stato fatto molto bene perché nell'89 con i voti della democrazia cristiana che non si rendeva conto di quello che faceva, perché aveva ragione a rendersene conto, un'amnistia per tutti i reativi, incluso il finanziamento illecito dei partiti, che voleva dire mondare il partito comunista, tutte le responsabilità per l'equivalente di oggi centinaia di milioni di euro arrivati illegalmente dall'Unione Sovietica, con l'aggravante che l'Unione Sovietica non era un industrialotto che ti paga, ma era uno stato nemico che aveva i piani per invadere il nostro paese e tutto l'Occidente e per cui questo, una bella amnistia e tutto a posto adesso poi sono quelli che non ho mai amnistia finito quello, molti dei partiti del centro-sinistra, come si chiamava allora, il centro-sinistra che in pratica era il centro-destra oggi si chiamerebbe probabilmente pensarono, vabbè siamo a posto, abbiamo avuto qualche problemino, ce l'avevano anche loro e invece li hanno inchiodati sulle cose fatte e a volte non fatte proprio in quegli anni lì dall'89, 92, 93 fatti tutti fuori. Oggi secondo me il disegno è più ampio ed è quello di depotenziare gli organismi democratici e infatti anche questo è, l'atmosfera è questa, all'epoca ce l'avevano quei politici perché spesso i politici erano corrotti, ma ce l'avevano perché erano corrotti, oggi ce l'hanno con i politici perché sono politici, ma io non mi hai rubato, ah non importa, sei lì e dunque sei un bandito. E lì volevo arrivare. E qual è l'alternativa quindi? L'alternativa? Se è il sistema democratico, perché il sistema democratico porta a eleggere dei politici alla fin fine. Porta a chiedo scusa. Ad eleggere dei politici. Eh per forza. Se io ce l'ho con la politica. Ma politici ci sono sempre, appunto. Cioè Mussolini era un politico, non è che fosse un agricoltore. Siamo politici democratici. No, 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 però a volte si pensa, a volte si identifica politica con democrazia quando non è nel caso. È politica anche quella dei monarchi assoluti. Luigi XIV non è mica che fosse un artigiano, era un politico, solo politico assoluto. L'alternativa è che governino le burocrazie, i grandi interessi finanziari, economici e per burocrazia intendono questi rispettabilissimi in sé come funzione, che sono i funzionari dello Stato, moltissimi dei quali molto più pagati dei parlamentari, di cui nessuno conosce il nome e soprattutto che non possono essere eletti e di fatto non possono essere rimossi. I quali, molti di questi sono personaggi encomiabili, grandi esperti, aiutano i politici che per loro natura non conoscono a fondo la macchina dello Stato come la conoscono loro. A volte però aiutano se stessi, aiutano interessi che si collegano con loro. I grandi interessi hanno molto più facilità a trattare con un funzionario che non deve rendere conto al popolo, piuttosto come un politico che, se rende conto al popolo, anche se magari non avesse tanta voglia, però poi gli elettori dicono ma scusa ma tu perché non hai fatto niente su quella porcheria lì? E allora uno si deve apporre, anche se non fosse così, spinto dall'ideale. Il funzionario che gli importa a lui? Nessuno sa il suo nome, non rende conto a nessuno, il politico passa e lui resta e per cui i grossi interessi hanno molto più facilità a trattare con loro. Per cui, che so, via il Senato, benissimo, oggi le leggi sono fatte al 95% dal governo e cioè dai funzionari del governo. Se si toglie il Senato passiamo al 99%, perché? Ah, un solo passaggio, poi dobbiamo fare in fretta perché salviamo l'Italia, per esempio salva Italia, quante schifezze c'erano dentro. Tanto per dire, non parlo di ruberie, parlo della mostruosità degli esodati, che se ci fosse stata la possibilità di seguire la Costituzione, cioè esaminarlo realmente sia la Camera sia il Senato, invece no, mettono lì, c'è fretta, fiducia, perché se no l'Europa risulta delle mostruosità. E allora lì è stato un danno per centinaia di migliaia di lavoratori e poi magari qualcuno si è anche aggiustato con qualche bel aiuto alle banche, i 4 miliardi al Monte dei Paschi e così via. Quindi insomma dici che la Terza Repubblica potrebbe essere una tecnocrazia, insomma. Io spero che la Terza Repubblica sia un recupero dell'amore per la libertà e per il nostro Paese, perché qui purtroppo tra il dare addosso alla democrazia e il dare addosso al nostro Paese dicendo solo in Italia, prima di tutto tutte le cose brutte che succedono nel nostro Paese, magari non succedessero solo in Italia, emigriamo e siamo a poi, non è vero, succede neanche altrove, i politici tedeschi non sono corrotti, ma quando mai? Tutto al più chiedono prezzi più alti da quello che, le rare volte in cui emerge qualcosa, per cui non è assolutamente vero, non bisogna fare, perché è stupido fare una cosa di questo genere, ma questo non vuol dire che dice, ah visto che lo fanno anche gli altri, no no, noi dobbiamo pretendere da tutto, non solo dalla politica, l'onestà e la trasparenza, ma dobbiamo avere coscienza che non abbiamo nessun motivo di ritenerci inferiore agli altri Paesi, certo se ci impegniamo, se ci impegniamo a fare schifo, facciamo schifo bene. Senti senatore, hai detto, Berlusconi è l'uomo che ha raccolto più preferenze al mondo, per questo lo si è voluto far fuori, è così? Eh beh sì, perché uno dice, è una tale, è proprio sistematica la cosa con Berlusconi, cioè da quando è entrato in politica gli si è passato al vaglio tutti i movimenti bancari, ogni documento, i bilanci delle sue aziende, che se l'avessero fatto con la maggior parte delle persone, anche che abbia avuto una vita di imprenditoriale più semplice di quella sua, qualcosa fuori posto avrebbero trovato, è stato così puntiglioso perché sapeva di poter puntare sulla sua superiorità rispetto agli altri, dal suo successo dovuto al fatto che era un grande innovatore, per cui non aveva bisogno, non gli conveniva pensare di risparmiare che so un 5% di imposte cercando di fregare, non gli conveniva, gli conveniva impegnarsi sulle cose su cui riusciva e travolgeva la concorrenza, per cui non lo faceva, intanto secondo me perché era onesto, ma naturalmente nessuno ci crede a queste cose perché si deve forse, mettiamola bene, non gli importava niente, non gli conveniva, tant'è vero che per fregarlo hanno dovuto tirar fuori una frode fiscale di cui non solo non ci sono le prove, ma la sentenza stessa dice che non ci sono, cioè non è che lo dico io, la sentenza dice che non c'è nessuna prova che dei soldi da questo famoso Agrama che sarebbe il finto intermediatore, dice che non c'è nessuna prova che dei soldi da Agrama siano arrivati a Berlusconi, ma allora perché Berlusconi avrebbe dovuto dargli dei soldi per nulla? E allora perché l'hanno condannato. Perché loro si sono inventati che l'hanno condannato sul fatto che lui anche se non è quello che ha fatto la frode, perché non era più presidente di niente, ha ideato la frode, cioè sarebbe come se c'è un omicidio, uno spara un altro, non condannano quello che spara, condannano quello che ha progettato la pistola, cioè una cosa totalmente allucinante, poi è venuto tutto il resto, la legge Severino ritagliata su Berlusconi, il decreto che non corrisponde alla legge che legittimava il decreto, l'applicazione retroattiva che non esiste paese civile al mondo che lo faccia e infine la cosa più evidente, più sporca, più vergognosa, il Senato che viene fatto votare a scrutinio palese quando il regolamento del Senato è di una chiarezza insuperabile, e cioè dice si votano a scrutinio segreto, si effettuano a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone. Senti, su questa cosa dello scrutinio palese segreto forse non tutti i cittadini hanno capito bene perché, poi vi siete confrontati molto su questo, ma non si è spiegato perché. Il concetto è questo, se si fosse votato a scrutinio segreto, secondo te sarebbe cambiato il risultato? Piccolissima premessa, se anche avessimo avuto la certezza che non si spostava neanche di un voto, se la legge dice in un certo modo, si fa in un certo modo, così come la legge ti dice che se un elettore viene fuori dalla cabina e dice guardate io ho votato il Partito Democratico, Forza Italia, quello che gli pare, gli metto una multa a 300 euro e se fa la fotografia per farlo vedere agli amici anche soltanto, 300 euro di multa, invece lì c'è una legge che è chiarissima dire che il voto è comunque riguardanti persone, e lì era chiaro, si votava se Berlusconi restava senatore o meno, bisognava votare segreto. Detto questo, penso proprio che il risultato sarebbe stato diverso, non so se è abbastanza diverso da salvare il ruolo di senatore Berlusconi, ma se non c'era questo pericolo non si sarebbero accaniti in questo modo folle a stravolgere il regolamento, ma chi glielo faceva fare? Se non cambiava il risultato, la percezione che si sente, se non cambiava il risultato perché non concedere questo? Ma certo, ma tanti colleghi anche della sinistra sono stati profondamente a disagio di fronte a questa cosa, però essendoci lo scrutinio palese, nessuno ha avuto il coraggio di votare segreto. Senti, ma alla fine non pensi che il fatto di non aver salvato, tra virgolette, Berlusconi in realtà lo stia potenziando? Sì, perché i cittadini vedono al di là dei trucchi, al di là del gioco sporco, cioè se in due squadre di calcio, in una partita di calcio l'arbitro fischia rigori che non ci sono contro una certa squadra, di quella squadra gli butta fuori i giocatori, sì sì può darsi che alla fine l'altra squadra vinca, ma mi sa che guadagna tifosi la squadra che siccome qui non contano i gol, ma contano i tifosi, cioè gli elettori, perché siamo in democrazia, grazie al cielo e grazie a tanti che si sono sacrificati per farla nascere e per difenderla questa democrazia, il vantaggio è per noi perché appare chiaramente che insomma uno che gioca così sporco deve avere qualcosa di brutto per la testa, perché non si può giocare sporco per fare degli obiettivi puliti. Senti, un'altra cosa che molti non hanno capito, a un certo punto circa un anno fa erano usciti dei sondaggi che avevamo anche dato qui a Profondo Rosso su il PDL che andava tra l'11 e 12% nazionale, in quel momento si parlava di primarie, Meloni, Alfano eccetera, poi a un certo punto Berlusconi torna in campo e abbiamo visto che c'è stato una sorta di raddoppio di voti poi alle elezioni politiche. Allora quello che si chiedono tanti osservatori, ma perché questa rottura di Alfano, perché lasciare un po' questa certezza di Berlusconi per compiere questo viaggio da solo? Io credo che Alfano abbia fatto un errore di calcolo e poi si è stato trascinato dai più, diciamo così, dai più estremisti dei suoi, cioè Alfano non pensava di rompere, pensava faccio la voce grossa, faccio una semiscissione, una minaccia di scissione, alla fine Berlusconi mi dirà, ma sì dai, sei il mio successore, stai lì, io ti do una mano e pensava di avere come dire, la botta è piena e la moglie ubriaca, cioè essere lui il leader ma avere Berlusconi che gli dava pure una mano perché altrimenti da solo rischiava di finire, come dicevano i sondaggi di un anno e qualcosa fa. Poi si è trovato in una situazione tale con alcuni dei suoi, non sto neanche a menzionare, che facevano delle sparate allucinanti contro Berlusconi, contro gli altri di Forza Italia, contro Berlusconi in modo indiretto ma contro il resto del partito, che lui si è trovato in una situazione dove o veramente otteneva tutto, cioè che Berlusconi dava pieni poteri e magari non so, denominava pure erede, oppure lui faceva brutta figura e il risultato si è trovato a fare questa cosa in cui secondo me neanche lui ci crede molto e non credendoci molto, se tu non credi in quello che fai gli altri non crederanno in te. Sì, ma se dovessero tornare indietro vale la politica del figlio del prodigo oppure non li prendete più? Io una volta ho detto a Berlusconi che ci sono diversi personaggi nella parabola del figlio del prodigo, è un ragazzo di una chiesa valdese della mia valle, è noto che la catechismo, gli fece la domanda chi si rattristò per il ritorno del figlio del prodigo e chi gli aveva fatto la domanda, la risposta doveva essere il figlio che era sempre stato lì, lui scrisse il vitello grasso. Allora nessuno di noi vuol fare la fine del vitello grasso, ma se ritorna il figlio del prodigo non lo cacciamo via e la politica è abbastanza così, da lì a dire va bene, fai il leader eccetera eccetera, beh, piano. Lo vediamo, lo ringraziamo il senatore Lucio Malan che si ferma qui con noi, ci stanno raggiungendo Monica Cerutti, l'onorevole Paola Bragantini, l'onorevole Mariano Rabino e la senatrice Maria Rizzotti, tra pochi minuti dopo la pubblicità inizia il dibattito, parleremo della Terza Repubblica, cercheremo anche di capire cosa è successo dopo la sentenza della Corte Costituzionale. A tra poco.